Come presidente Gianni Varis, vittoria doveva essere, vittoria è stata fondamentale chiaramente per continuare a mantenere un distacco con un minimo di tranquillità, con un briciolo di tranquillità sulla zona play-out? La tranquillità è una partita in meno ma sempre lo stesso distacco sul sest'ultimo posto, poi nel calcio bisogna vedere la distanza degli otto punti tra la terz'ultima e la quart'ultima e ovviamente chi entra nell'ultimo posto dei play-out. Speriamo proprio di non avere questi problemi ma sappiamo benissimo che affrontiamo nelle prossime tre partite tre squadre in forma che lottano due per il vertice della classifica, parliamo di Senigallia e Trastevere e l'ultima giornata in casa della San Benedettese. Ci vuole una squadra con gli attributi come l'ha dimostrato oggi, una squadra che ha rischiato zero contro però un avversario modesto, questo va detto perché se il Tolentino è lì all'ultimo posto ovviamente lo ha dimostrato anche in campo. Quota salvezza 41 o ci stiamo sbilanciando troppo? No, no, la quota salvezza 44 almeno, 43-44. Con il vicepresidente Mazzucchetti, è quasi finita dopo oggi? Teoricamente ancora no perché poi abbiamo visto che i risultati che ho visto in questo momento ancora c'è speranza. È ovvio che oggi era sicuramente una delle ultime occasioni che avevamo per fare qualche punto, purtroppo non c'è stato. Secondo noi il rigore un po' ci ha tagliato le gambe subito, quindi rivedendolo mi sembra pure che era abbastanza dubbio, però ecco normalmente il calcio è così, quindi bisogna prendere le decisioni arbitrali come sono. L'impressione però, dire la verità, è che la squadra oggi è un po' mancata, soprattutto nella ripresa quando magari serviva di dare l'arrembaggio decisivo per provare a riaprirla poi sostanzialmente. Sì, devo dire che siamo arrivati con una squadra abbastanza rimaneggiata perché abbiamo avuto 4-5 giocatori influenzati questa settimana, quindi ecco oggi è esordito tra l'altro anche qualche ragazzo del settore giovanile perché poi questi eravamo. Poi nel secondo tempo devo dire che ecco c'è stato anche un impegno da parte dei giocatori, però ecco sul 3-0 era praticamente fatta, quindi è così. Ecco speriamo nelle prossime partite, la matematica ancora non ci condanna, però ecco vediamo, vediamo quello che succede. In bocca al lungo, grazie.